Non c'è tempo per i rimpianti e per rimuginare su di una Coppa Italia sfuggita nella maniera più inattesa, con lo 0-3 subito domenica da una Coppa Pedretti Bergamo spietata. Questa sera alle 20.30 si torna a respirare aria d'Europa al Palabanca, dove Nord Meccanica affronterà la Dinamo Kazan. Si tratta della sfida di ritorno, valevole per i play-off a sei di Champions League. In palio l'accesso alla Final Four nella massima competizione europea di pallavolo con le piacentine che saranno chiamate all'impresa. Un 3-0 secco, quello rimediato nel corso della partita di andata, che confermò la superiorità della formazione russa, che può contare su giocatrici di valore assoluto, a cominciare dall'esperta Ekaterina Gamova, opposto di 2 metri e 2 centimetri, che sarà ovviamente il pericolo numero uno dal quale dovranno guardarsi Bauer e compagnie, oltre che dalla italiana in esilio dorato Antonella Delcore. Servirà un successo per 3-0 alle Bianco-Blu per centrare l'accesso all'ultima fase di Champions League che si svolgerà in Italia al Palagiorge di Montichiari. Di fatto servirà la gara perfetta.